Ciao a tutti! Allora, con Alberto Gurisi e Max Furian abbiamo fatto un progetto che avevo in mente da tempo Abbiamo preso dei pezzi miei vecchi, perché io sono vecchio, e li abbiamo fatti con la sonorità Hammond, tipica da trio Ci sono anche i video, il disco uscirà tra poco, quindi se avete voglia andate sul mio canale YouTube e poi ci dite se vi piacciono o no Ciao! 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 Ciao!